eccoci bentornati a tutti con una nuova puntata del canale di sottosopra dedicato la tecnologia e società oggi avremo nostro ospite marco marrone che è un ricercatore presso il centro studi umanistici e cambiamento sociale dell'università ca foscari di venezia inoltre ricercatore anche presso l'estate salento ha conseguito il suo dottorato di ricerche in sociologia presso l'università di bologna e la sua ricerca è principalmente incentrata sui tirocini e l'informalizzazione del lavoro in italia ha inoltre concentrato i suoi studi sulla scesa del capitalismo delle piattaforme e sulla resistenza ai lavoratori nel settore delle consegne del cibo collabora inoltre con l'istituto per la ricerca economica e sociale della regione emilia romagna e tra le sue varie pubblicazioni oltre a quelle in ambito accademico segnaliamo i suoi articoli sulla rivista la fionda e sulla rivista giacomo in italia ha inoltre pubblicato lo scorso anno un libro sui temi che affronteremo oggi dal titolo rights against the machine il lavoro digitale e le lotte dei rider allora grazie ancora marco di di essere con noi con noi oggi grazie a te john dominico insomma per l'invito grazie a voi per l'ospitalità e niente allora iniziamo subito con una domanda un po diciamo più per introdurci al tema e capire un po meglio come si sia studiare approfondire questi questi temi visto che appunto il tuo non è solo un percorso di studio quindi volevo chiedere un po se potevi un po introdurci a alla tua storia diciamo come questo si interessa mi col col approfondimento del mondo del lavoro e del digitale sì ecco in realtà diciamo il mio interesse per il mondo delle piattaforme digitali si potrebbe dire che nasce per caso nel senso che nasce in un incontro con dei dei miei amici ecco che parliamo ormai del 2017 quindi di qualche tempo fa che terminata l'università come succede purtroppo tuttora tanti ragazzi si barcamenano appunto in un susseguirsi di lavoretti di prestazioni occasionali lavoro gratuito partite iva e quant'altro ecco insomma questo è un fenomeno che conoscevamo da tempo e la novità fu all'epoca nel 2017 appunto l'arrivo di queste piattaforme digitali nella nostra città in particolare delle piattaforme di food delivery per cui come dire che inizialmente peraltro si comportavano in maniera molto diversa da come fanno oggi e puntavano proprio anche a coinvolgere questa composizione sociale che però come dire per loro si è dimostrata anche un po' una spina del fianco perché anche dotata appunto della capacità di organizzarsi e di come dire di costruire contropotere all'interno di questi di questi mondi però andiamo per gradi ecco appunto c'era stata già qualche sciopero in Italia a Torino ma c'erano stati già anche diversi scioperi a livello europeo perché come dire se c'è una cosa interessante anche di quella che è questo movimento dei rider è un movimento che si sta dando in chiave globale insomma è un'ondata di sindacalizzazione che non è limitata soltanto al caso italiano né tantomeno anche al suo caso europeo e quindi quello che da lì inaco è diciamo il tentativo l'idea di provare a costruire anzitutto un gruppo che non fosse come dire di matrice inizialmente prettamente sindacale ma che fosse anche incardinato attorno alla questione della solidarietà ecco insomma anche perché quello che colpiva era appunto un mondo che per quanto digitale interconnesso e per quanto anche fortemente visibile all'interno della città era fortemente isolato nel senso che citando uno dei dei lavoratori durante una delle assemblee di radio del studio in bologna fu appunto si vedono persone che hanno la stessa divisa che fanno lo stesso lavoro ma non si sa chi sono questo come dire per certi versi era anche un dato innovativo rispetto a modelli produttivi che conoscevamo nel passato dunque inizialmente come dire il tentativo è stato quello di costruire un gruppo di mutualismo di mutuo aiuto di scambio anche di informazioni piuttosto che ehm di di corsi di per riparare la bicicletta di ciclofficina insomma cercare un po' di infilarsi lì dove tutti quegli spazi lasciati scoperti dalle piattaforme ecco e poi come dire in un effetto quasi magico mi verrebbe da dire mh nacque invece l'esperienza sindacale nacque a seguito di uno sciopero eh ormai del novembre del 2017 quando una improvvisa nevicata travolse la città di Bologna e i i rider che appunto nel frattempo erano stati informati o eh si erano anche loro stessi informati del dell'assenza di tutele di qualsiasi tipo soprattutto nei casi di infortunio ecco eh e lì nacque diciamo quello che è stato un po' eh il primo sciopero e da lì l'esperienza di Radio Sino Bologna è un'esperienza che appunto ho seguito molto intensamente soprattutto nella fase iniziale eh e che come dire ha partecipato a quello che in Italia è stato un po' il movimento delle unions quindi di esperienze di auto organizzazione dei lavoratori che sono accadute a Bologna a Milano a Roma eh quindi e da lì insomma è venuto fuori un percorso che per me è è stato eh un percorso molto intenso di ricerca e di attivismo ecco eh questo eh devo dire che eh in questo senso a mio avviso è stato un percorso eh almeno per me eh molto molto arricchente perché sono stato letteralmente preso per mano dai lavoratori condotto dentro un'economia che come dire è ravvolta non solo dalle tecnologie digitali ma anche da un'enorme potenza narrativa eh come quella delle piattaforme digitali quindi le retoriche del lavoretto le retoriche della sharing economy le retoriche della flessibilità del lavora quando vuoi del lavora divertendoti e che invece in realtà insomma i rider hanno mostrato eh poi non solo a me ma per fortuna riuscendo a organizzarsi a tutti quanti che ehm che eh che in realtà è ben lontano come dire da questo sogno utopistico quasi post capitalista che le piattaforme provavano a dipingere intrise di una retorica molto californiana da questo punto di vista e che invece è una realtà di sfruttamento sempre più intenso di ehm di di assenza di tutele di elusione normativa di atteggiamenti antisindacali di atteggiamenti discriminatori insomma tutte cose che se quattro anni fa eh dicevano un gruppo di dieci ragazzi scalcagnati oggi come dire sono acclarate non solo vorrebbe dire dalle corti eh perché diverse sono state anche le cause che hanno messo in luce queste questioni ma in ultimo anche dall'Unione Europea con la direttiva eh di recente approvazione che appunto eh riconosce i lavoratori di piattaforma finalmente come lavoratori subordinati ecco insomma che è la la rivendicazione principale che ci ha accompagnati in questi anni e credo che insomma se oggi abbiamo maggiore consapevolezza di ciò che si nasconde dietro eh queste piattaforme digitali se oggi eh ci poniamo giustamente il problema del rapporto che abbiamo nei confronti delle piattaforme nonostante un periodo storico che in qualche modo ci spinge sempre di più verso le loro braccia eh mi sto riferendo chiaramente alla pandemia ecco se oggi abbiamo qualche strumento critico in più lo dobbiamo ai rider che hanno deciso di organizzarsi e che hanno deciso di mettere in gioco le proprie vite nel proprio lavoro le proprie carriere professionali per riuscire come dire a mettere a nudo eh quello che a tutti gli effetti penso possiamo definire come una delle ulteriori delle ultime eh frontiere dello sfruttamento del lavoro. Si parla spesso di piattoformalizzazione dell'economia e vorrei chiederti se puoi darci una qualche definizione e spiegarci cosa in che modo questo coinvolge le nostre vite. Ecco in realtà eh l'elemento paradossale dell'epoca che stiamo vivendo è che mentre ci troviamo ad utilizzare eh le piattaforme sempre di più insomma per comunicare con i nostri amici per ordinare una pizza piuttosto che comprare qualche oggetto o o decidere pianificare le nostre vacanze. E mentre come dire anche usiamo sempre più frequentemente il termine il termine piattaforma eh insomma indicando quelle che sono appunto i modi e i servizi che andiamo poi ad acquistare in realtà cosa vuol dire piattaforma non è un dato così scontato anche perché l'origine di questo termine è ben lontana dal dall'economia anzi eh diciamo uno dei primi riferimenti al al termine piattaforma fu nell'Inghilterra del diciassettesimo secolo con il movimento dei diggers che erano appunto un movimento che addirittura paradossalmente prevedeva l'abolizione della proprietà privata insomma del del lavoro e del del comando dell'uomo 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 sull'uomo sul lavoro quindi e e che in realtà in quell'epoca in un contesto come dire di natura teologico politica voleva provare a dedicare anche un po' la capacità di tenere insieme attori differenti no? Che è un po' il termine anche che ehm è stato impiegato dentro la la politica pensata quando si si parla di la piattaforma sindacale o della piattaforma politica di un partito che cosa si intende diciamo con in in questo o in questo in questa cornice si intende mh uno strumento come dire aperto cioè in questo senso la piattaforma si oppone al programma politico che invece è qualcosa di chiuso definito dalla segreteria del partito invece la piattaforma si intende come uno spazio aperto interagibile ehm modificabile da parte dei cittadini a seconda delle di come lo si può eh di si può entrare come lo si può maneggiare allo stesso modo è la piattaforma sindacale che appunto è un punto di partenza in una discussione ma che si presta a una flessibilità ad essere anche poi modificato ed adattato ora diciamo questo è appunto l'origine dentro l'ambito politico un'altra origine la possiamo trovare ad esempio nell'ambito informatico no? Le prime piattaforme in questo senso sono le piattaforme peer to peer no? Le cosiddette eh insomma piattaforme peer to peer uno dei casi in questo caso ehm più esemplificativo di quello che è stato l'impatto delle piattaforme digitali dentro l'informatica che appunto in realtà vanno a sostituire in questo caso cosa c'era prima della piattaforma? C'era l'architettura informatica no? C'era non so se se vi ricordate appunto quando si parlava dei siti internet come dell'architettura del sito internet invece che della piattaforma ecco in questo caso come dire entrata a far parte perché appunto eh se guardiamo piattaforme come erano Emule o come era eh Napster erano sicuramente qualcosa di molto differente rispetto al sito internet appunto pianificato eh e e rigido come dire costruito dall'altro perché appunto consentivano a degli utenti di mettersi in contatto tra di loro tant'è che su questo immagino che molti di voi si ricordino anche il caso metallica contro Napster no? In cui eh appunto la famosa band americana accusò Napster di ehm pirateria e la linea di difesa di Napster diciamo non è dissimile da quella che oggi assumono le piattaforme di food delivery tutte le volte che vengono portate in tribunale cioè eh se se vi ricordate all'epoca si diceva io sono una semplice infrastruttura digitale non sono responsabile degli scambi che accadono al mio interno quindi non non sono responsabile del fatto che magari due tenti decidono di scambiarsi un file pirata come potevano essere gli mp3 eh dell'epoca e appunto per certi versi è un po' lo stesso ragionamento che oggi provano a fare eh le piattaforme digitali tutte le volte che vengono portate in tribunale cioè l'idea che loro non sono responsabili del del di ciò che accade al loro interno e quindi del rapporto che magari il fattorino può avere con con il ristorante eh la svolta accade però eh appunto quando eh il termine piattaforma che ha queste origini ben distanti dall'economia arriva dentro dentro l'ambito economico arriva a sostituire quelle che era insomma la vecchia idea di corporation nonostante non flessibilizzata nonostante come dire frammentata perché in questo senso non è che le piattaforme sono emerse dal nulla ma eh si trovano dentro un processo di lungo periodo che da tempo come dire prova a smantellare la produzione in un qualche modo a a a a liquefarla a renderla in questo senso non solo eh elusiva rispetto alle norme ma anche più pervasiva no all'interno insomma dello scenario eh economico e politico globale quindi eh in questo in questo ambito quando la piattaforma arriva sull'economia cosa si intende? La letteratura ma nella generale oggi si direbbe che le piattaforme sono dei multisided market no? Sono dei mercati a multientrate che riescono a coordinare a mettere insieme più attori appunto quindi si prestano al rapporto fra questi attori eh in maniera in maniera flessibile no? Quindi adattandosi anche a quelle che sono le esigenze del singolo momento e ehm e in realtà poi sappiamo appunto grazie anche alle lotte dei rider ma non solo che non è poi così semplice anzi che in realtà la piattaforma riesce ad avere una capacità pervasiva grazie al suo essere un ibrido fra un mercato orizzontale dove agiscono appunto ehm soggetti frammentati e in competizione fra di loro eh e invece un diciamo e dall'altro lato invece ripropone quelli che sono gli elementi verticali gerarchici tipici dell'impresa perché ogni piattaforma qualsiasi piattaforma che se sia persino le piattaforme di dating mi verrebbe da dire eh sono si basano su una gerarchia si basano su ehm un ranking su delle votazioni su dei feedback eh su dei tracciamenti ecco insomma questo tipo di meccanismi per quanto su alcune piattaforme possono essere più lasti che altre comunque in generale differire di piattaforma in piattaforma in realtà sono dei meccanismi trasversali oggi ci possiamo dire eh che la piattaforma è una vera e propria anche logica di governo del lavoro e che passa attraverso appunto questo questo ibrido fra questi due ambiti quindi questo ha fatto sì che le piattaforme digitali in breve tempo eh riuscissero no a a a dominare il mercato questo anche perché eh come dire in questo senso eh rappresentano forse le piattaforme uno dei modi in cui il capitalismo sia strutturato in maniera più efficace a seguire la crisi del del duemila e otto e quindi nell'ultimo come dire nell'ultimo decennio hanno raggiunto davvero una pervasività eh incredibile con dei valori eh di di mercato eh stellari eh appunto sono le ultime stime eh a cui ho prestato attenzione rispetto al valore di mercato delle piattaforme le vede ormai avviate sui quaranta eh su quaranta trilioni di dollari insomma per capirci sono stiamo parlando di eh cifre che sono eh cinquanta volte di più quello che è il valore di mercato dell'automobile questo anche perché appunto le piattaforme digitali riescono a non solo ad ad operare in singoli settori ma l'abbiamo vista l'opera trasversalmente sono riusciti a diffondersi trasversalmente all'interno dell'economia ed è per questo che qualcuno eh dice non è più il caso di parlare dell'economia di piattaforma non è caso più di considerarvi come un settore da parte ma di considerare una vera e propria piattaformizzazione dell'economia perché con il termine piattaforma ci si riferisce spesso non solo ad aziende come Deliveroo, Airbnb, Helping ma anche ad aziende come Amazon, Apple, Microsoft, no? In in un modo o nell'altro se guardiamo anche il caso di Apple è in fin dei conti anche essa, essa stessa è una piattaforma in quanto nulla di ciò che acquistiamo Apple viene prodotto in California ma come dire è un'azienda che si limita eh come dire a coordinare una serie di attori che entrano all'interno del loro ecosistema produttivo ecco quindi da questo punto di vista in realtà questo mi sembra essere un dato eh fin troppo evidente che eh eh tanto la digitalizzazione quanto la piattaformizzazione non sono dei fenomeni che riguardano lavori specifici eh settori specifici come pure qualche economista in passato aveva aveva osservato ma in realtà sono dei veri e propri fenomeni trasversali. Il dato innovativo eh che ehm qualcuno aveva già messo in luce prima della pandemia ma che eh abbiamo visto la pandemia ha reso eh come dire eh evidente sotto gli occhi di tutti quanti è che forse non ci troviamo soltanto di fronte alla piattaformizzazione dell'economia ma ci troviamo di fronte a una vera e per piattaformizzazione della società perché eh siamo costretti a ricorrere a piattaforme private proprietà di capitali privati oggi persino per poter garantire un diritto come quello eh un diritto costituzionale come il diritto allo studio. Si rivolgiamo alle piattaforme digitali appunto anche per riuscire a mantenere i nostri rapporti sociali, per riuscire a vedere i nostri familiari o i nostri amici. Ecco tutto ciò eh mi porta a pensare che le piattaforme in questo senso sono qualcosa di radicalmente differente rispetto al passato che non si accontentano più semplicemente di eh dominare il mercato e di essere aziende leader sul mercato ma vogliono essere il mercato stesso anzi vogliono essere le infrastrutture attorno al quale la società si va riorganizzando non solo l'economia ma le intere funzioni sociali si vanno organizzando sono delle vere e proprie infrastrutture come dire della nuova società post pandemica. Questo a mio avviso rende ancora più urgente ehm e ancora più evidente riuscire a regolamentare la loro attività che ad oggi invece avviene in un un'opacità costante in un contesto grigio eh sul quale appunto eh sul quale stanno riuscendo a eh ad affermarsi a a penetrare all'interno nel cuore della società. Ecco. Grazie, grazie mille. Eh molto chiaro. Ecco ho parlato appunto anche molto dell'impatto cioè l'economia anche sulla sulla vita comune diciamo di ciascuno di noi e anche di fatto procedere del tema del lavoro. C'è un altro aspetto che su qua ti chiederai qualche altra considerazione che che riguarda ehm diciamo la vita fuori da diciamo o meglio noi teniamo spesso pensare a internet appunto come eh non so quella cosa magari che facciamo cioè almeno quanto meno magari i più giovani no però diciamo magari come quella cosa facciamo davanti al computer o comunque quando oppure appunto quando ci attiamo con delle con i nostri amici alla cellulare eccetera però c'è anche un impatto probabilmente molto visibile proprio sullo spazio urbano e sul modo in cui eh viviamo anche la il contesto cittadino. ma devi farci qualche considerazione in merito a come cambia di sì ehm appunto le piattaforme diciamo rispetto a a quello che è lo spazio urbano eh secondo me mettono in evidenza eh quanto appena detto no? Cioè quanto stiano diventando degli attori centrali in grado di condizionare le nostre scelte di vita e di regolare le nostre scelte di vita e non solo come dire di controllare il nostro il nostro lavoro e in questo senso la città non è solo il luogo dove le piattaforme toccano terra dove questo mondo come dire come dicevi tu etereo eh scintillante trova poi alla fine la materialità insomma i corpi di chi lavora la vita delle persone ma a mio amici mettono in evidenza appunto anche eh come la loro capacità di mettere a valore non più soltanto lo spazio tradizionale del lavoro no? Quindi il lavoro tradizionalmente inteso come può essere la consegna della pizza, la consegna del pacco o o o o o quant'altro ma anche come dire quello che forse potremmo definire una vera e propria seconda fonte del valore che eh le piattaforme mh aggiungono rispetto a quello che è lo sfruttamento tradizionale del lavoro e che è l'estrazione di dati e in questo perché le chiamo anche una seconda fonte del valore perché eh anche ehm insomma esiste un filone come quello della digital labor e poi c'è ad esempio anche Antonio Casilli ha scritto anche un altro libro molto interessante su questi temi perché eh guardiamo a alla produzione di dati come a lavoro perché appunto eh in realtà eh la ricchezza di molte di queste piattaforme non deriva soltanto dal trasporto del cibo ma deriva appunto dalla capacità di riuscire a estrarre continuamente dati eh dall'attività che svolgono i rider quindi in questo senso i rider non lavorano soltanto nel momento della consegna ma lavorano tutte le volte che la piattaforma li costringe a interagire con la piattaforma a segnare il momento di partenza il momento di arrivo le spalle che che decidono di percorrere persino anche quando eh sono costretti a reagire eh in in decimo di secondo per riuscire magari a prendere un turno che qualche collega eh eh ha ha lasciato a disposizione e che in quel caso attiva questo meccanismo di competizione tramite la piattaforma e che spinge il rider poi a a a a a digitare a cliccare continuamente per riuscire a a a comporre la propria settimana lavorativa e quindi da questo punto di vista dato che se guardiamo a piattaforme come Facebook che come dire hanno nella loro eh che hanno nella loro produzione di valore cioè nel loro nel loro introito il 96% proviene dalla vendita degli spazi pubblicitari quindi degli spazi pubblicitari che non è più la pubblicità di una volta come quella che veniva trasmessa in televisione in radio che magari appunto poteva prendere un gruppo più o meno ampio e più o meno interessato anche al prodotto ma spazi targetizzati eh il cui la il cui informazione rispetto a quelle che sono le nostre preferenze gliel'abbiamo data noi gliel'abbiamo data noi magari scrivendo un post magari cliccando un un like in una qualche pagina ecco questo fa sì che eh come dire Facebook ad esempio ha costruito negli anni una vera e propria miniera informativa che eh consente alle persone poi di riuscire a eh consente poi eh anche di riuscire ad indirizzare la pubblicità e fare in modo che arrivi come dire alla persona che abbia un interesse non so se io vendo scarpe rosse eh so che eh magari tu hai cliccato alla pagina mi piacciono le scarpe rosse e quindi ti verrà visualizzato come dire il mio inserto pubblicitario no? E questo chiaramente accade anche quando ci spostiamo nella città pensiamo ad esempio Google Maps no? Cioè quando ci spostiamo all'interno della città produciamo continuamente dati no? E in questo modo alimentiamo quella che è la macchina delle piattaforme digitale ma dall'altro lato è anche vero come dire che eh insomma le piattaforme poi condizionano il nostro spostamento no? Perché se Google eh ad esempio decide di eh farci passare tutti verso una strada eh noi passiamo tutti su quella strada e questa cosa produce delle conseguenze anche rispetto a quelle che sono le infrastrutture tradizionali della città no? Eh quindi in questo senso c'è un rapporto di reciprocità in cui se da un lato le piattaforme diventano le nuove infrastrutture dall'altro lato piattaformizzano le le infrastrutture esistenti le condizionano in qualche modo eh producono una pressione nei loro confronti che che ad esempio in altre città come come negli Stati Uniti fa sì che Amazon sta provando ad avere ehm ad avere voce in capitolo nella discussione sulla pianificazione urbana delle città perché chiaramente eh il trasporto la questo continuo eh progredire della rivoluzione logistica del capitale ossia quella definizione che viene data a una trasformazione all'interno del capitalismo che fa sì che eh come dire chi governa la produzione non è più chi produce i prodotti ma piuttosto chi riesce a distribuirli a farli circolare ecco questo fa sì che ad esempio eh si apre tutto un dibattito su quelle che sono le infrastrutture della mobilità che sono sempre meno infrastrutture a servizio delle persone e sempre di più infrastrutture a servizio della logistica e del trasporto di questo materiale eh lo stesso si potrebbe dire anche non so cambiando eh spettro di riflessione rispetto a quello che è l'ambito della scuola in cui ormai eh come dire la didattica della scuola e dell'università che è anche l'ambito eh che frequento e conosco di più ma in cui ormai la didattica digitale è riuscita ad entrare all'interno delle università e questo come dire mh mossi dall'emergenza non è entrato in una chiave come dire di eh infrastrutture pubbliche della didattica digitale ma anche lì ci si è dovuti rivolgere a delle multinazionali che mentre noi eh andiamo avanti a fare le nostre lezioni in realtà continuano ad estrarre dati continuano ad arricchirsi e continuano in qualche modo a eh condizionare anche il modo in cui eh si può mh insegnare si può fare insegnamento o o o rispetto a quelli che possono essere anche le scelte didattiche di ogni docente ecco tutto ciò per dire che insomma la città è in questo senso una vera e propria metafora del modo in cui le piattaforme sono in grado di mettere a valore l'intera vita ecco insomma non più soltanto eh le nostre attività professionali strettamente intese ma la nostra intera vita perché oggi proviamo a pensare eh la nostra vita senza le piattaforme e succede succede ogni tanto quando capitano anche i crash insomma delle piattaforme di meta ossia il nuovo gruppo di Facebook e ci rendiamo conto che come dire è come se ci venisse a mancare una una sorta di protesi ecco della della nostra vita perché senza i servizi che ci offre Zuckerberg come dire ci sentiamo molto più isolati ecco eh quindi anche qua anche in questo caso persino i nostri rapporti familiari i nostri rapporti comunicativi sono condizionati dalle piattaforme che riescono in qualche modo non solo ad estrarre informazioni rispetto a se scriviamo ad esempio ho voglia di sushi eh a un nostro amico sappiamo che Facebook ci riempirà di di pubblicità di sushi per una settimana ad esempio no ma questo fa anche sì come dire che eh eh pensiamo le nostre relazioni sociali anche in termini no di gli amici di Facebook o quantomeno i gruppi dentro al quale di WhatsApp che ci troviamo in un ultimo l'ultimo esempio che potrei fare in questo senso sono addirittura le piattaforme di dating insomma i vari Tinder e associati che in un qualche modo non stanno soltanto eh con non sono cioè non sono delle piattaforme diverse alle altre anche in questo caso ci troviamo di fronte a piattaforme che hanno come primo obiettivo quello di riuscire a costruire soldi no e che si adattano chiaramente a quelle che sono le le situazioni ad esempio in questo senso sono molto evidenti solitamente anche un certo ambito di politiche di aspetto progressivo che provano a darsi ma dall'altro lato ad esempio sono anche in grado di condizionare il nostro modo di pensare le relazioni eh di recente Tinder ha lanciato una campagna pubblicitaria che è quella eh di ehm che che ha come hashtag single not sorry cioè a differenza delle piattaforme di dating del passato che partivano dall'idea che la condizione stigmatizzata fosse quella del single eh che quindi ti offrivano la possibilità di superare eh questa condizione con quelle piattaforme di trovare l'anima gemella oggi Tinder rovescia questo discorso e ti dice ma perché devi eh infilarti dentro una relazione affettiva che come dire può essere persino dannosa per la tua carriera professionale quando invece puoi continuare a a godere insomma del del piacere delle relazioni eh con l'altro sesso con lo stesso sesso insomma a seconda delle preferenze grazie proprio all'esistenza eh eh all'esistenza di Tinder no quindi di poter preservare lo stato di single senza essere soli senza quindi uscendo da quell'elemento della stigmatizzazione è un esempio estremo ma che chiaramente prendo in considerazione proprio per dire che eh tutte le volte che noi agiamo nei confronti delle piattaforme non agiamo nei confronti di uno strumento neutro ma agiamo come dire eh all'interno di un ecosistema che in un qualche modo ci rende sempre più dipendenti ossia ci condiziona eh dentro dentro il nostro agire questo un po' anche il senso delle piattaforme che diventano infrastrutture perché appunto le infrastrutture sono qualcosa eh nei confronti del quale la la vita sociale la nostra vita sociale e la nostra possibilità di vita sociale dipende proviamo a pensare vuol dire se vogliamo pensare a un antenato delle tecnologie digitali in questo senso è l'elettricità no? Cioè l'elettricità è stato qualcosa le infrastrutture elettriche sono state un qualcosa che come dire hanno consentito una vera e propria trasformazione della vita sociale delle persone che oggi non sarebbe pensabile no? Ad esempio fare molte delle cose che facciamo senza eh senza la luce elettrica quindi ehm la pervasività che queste che le tecnologie digitali assumono dall'interno della città è esattamente qualcosa che come dire finisce anche a condizionare lo stesso modo in cui noi pensiamo i confini dello spazio urbano in fin dei conti no? E quindi in qualche modo riescono ad agire anche su su quelli che sono persino eh le questioni politiche confini politici questa è l'altra di grande capacità delle piattaforme cioè di mettere in cortocircuito il rapporto tra economia e politica così come l'abbiamo pensato fino ad oggi. Infine però c'è anche da dire un'altra cosa perché altrimenti eh come dire eh lo scenario è quello di una città eh passivamente distesa nei confronti delle esigenze di accumulazione e di espansione delle piattaforme. In realtà poi così non è nel senso che eh l'altro versante nel quale entra in gioco la città dentro questa questione è eh quello insomma di riuscire a offrire quelle risorse necessarie a eh esperienze come quelle dei rider o come quelle che sono stati degli artisti di Uber o come quelle che vediamo oggi in Germania dei ciclofattorini di Gorillaz e di riuscirsi ad organizzare per eh per contrastare eh come dire questa continua espansione delle piattaforme. Ecco non è uno spazio liscio nel quale si muove indisturbate ma uno spazio che al contrario continua a produrre resistenza, continua a produrre tentativi eh eh di rovesciare ecco questo loro disegno in un qualche modo pervasivo e di di fare entrare in gioco eh in qualche modo non solo resistenza e contropotere ma anche tentativi di regolamentazione e dunque di democratizzazione ecco di queste spazio e di queste strutture questo ecco per dire che in realtà eh per quanto pervasivo e invincibile possa sembrare eh il sistema delle piattaforme poi in un qualche modo eh eh la classe operaia mi avrebbe da dire largamente intesa cioè una nuova classe operaia reinventata dentro il cyberspazio delle piattaforme continua a mostrare capacità ecco di organizzarsi e di combattere. Grazie mille Marco quello che è appena detto sicuramente eh si fa anche l'esempio più classico quello proprio dei rider e vorrei però tornare un attimo al discorso più generale quello che è l'economia della piattaforma è possibile grazie innanzitutto a un elemento centrale che è il dato il dato però che non è solo una prerogativa che noi regaliamo alle aziende del privato ma è un bene che diventa centrale anche su un discorso più geopolitico per noi cittadini europei la cosa dovrebbe essere abbastanza chiara o se non lo è dovrebbe diventarla e ecco ne parlavi per esempio in uno dei tuoi articoli per per la fionda eh potresti spiegarci meglio qual è il livello geopolitico di questa situazione? Sì sì ecco appunto come dicevo eh una grande capacità delle piattaforme è quella di mettere in cortocircuito il rapporto tra economia e politica per così come l'abbiamo conosciuto eh in questo senso eh l'economia di piattaforma si differenzia da quello che abbiamo conosciuto in passato anche rispetto a quello che è il sospetto di azione a livello globale ossia mi spiego meglio per eh come dire conoscere l'espansione del terrorismo fuori dai confini europei in un qualche modo abbiamo dovuto attendere la sua crisi ci è voluto quasi un secolo no per cui nel momento in cui il terrorismo è andato in crisi in Europa si è espanso in tutto il mondo dentro la forma appunto dei processi di outsourcing il cosiddetto capitalismo reticolare degli anni novanta ha fatto sì che poi quello che era un modello produttivo nato in occidente si distribuisse eh nel mondo come dire si diffondesse come dire anche in contesti differenti di quelli europei eh ecco eh le piattaforme digitali eh da questo punto di vista mh invece si danno come uno spazio immediatamente globale perché le piattaforme non ci sono solo a Roma a Milano a Berlino a New York ma ci sono anche a Buenos Aires sono anche a Rio de Janeiro eh sono anche a Nairobi sono anche a Casablanca sono anche ehm a Calcutta sono anche a Pechino quindi ecco insomma diciamo questo è sicuramente un qualcosa di differente rispetto al passato qualcosa come dire che segna una rottura rispetto al passato appunto il suo essere un fenomeno immediatamente globale poi peraltro noi si stiamo concentrando molto su quelle che sono le piattaforme lì in ma in realtà le piattaforme sono anche quelle del micro lavoro no cioè di eh questo esercito di lavoratori a di lavoratori anonimi che hanno eh quello che fanno è fondamentalmente ad esempio disegnare tondi attorno ai pomodori per riuscire a nutrire gli algoritmi eh su questo non so se avete presente CAPTCHA quell'algoritmo che voi dovete cliccare e riconoscere non so dove ci sono le automobili per poter andare avanti nel sito ecco quella cosa lì non la fa una macchina quella cosa lì la fa qualcuno che ha pagato un centesimo a quadratino attorno a ogni singola immagine e come dire questo per dire che l'economia digitale continua ad aver bisogno anzi in questo senso eh se la narrazione la narrazione dell'idea del del dell'automazione come sostituzione del lavoro umano da parte delle macchine le piattaforme digitali la rovesciano perché in realtà è un'espansione ulteriore nei margini di sfruttamento del del lavoro no e quando quella retorica lì in fin dei conti è una delle tante retoriche che vengono impiegate per riuscire ad ottenere come obiettivo quella della docilizzazione del rapporto di lavoro però come dicevamo prima appunto eh l'elemento eh la particolarità del quando vengono presi in considerazione un modello di sfruttamento non è più quello del lavoro tradizionale ma quello del dato mette in cortocircuito appunto quel confine lì e l'abbiamo visto ad esempio il caso tipico eh eh è quello di di Cambridge Analytica con i dati eh venduti eh da parte insomma del eh da parte di di Facebook ai vari partiti politici dell'ultradestra però ecco senza arrivare a quello che è il caso sicuramente più emblematico e più significativo delle implicazioni politiche che possono avere questo tipo di strumenti eh c'è da dire che ehm c'è da dire che appunto in realtà eh diffondersi in chiave globale ha fatto sì che oggi emergessero delle vere e proprie insomma potenze di piattaforma no? Questo non solo quell'americana ecco uno dei filoni più interessanti a mio avviso che sta emergendo all'interno dei cosiddetti platform studies è quello che prova ad invitare alla deoccidentalizzazione dello sguardo sulle piattaforme no? Quindi che ci prova a sollecitare a dire non studiamo solo Facebook, Airbnb, Amazon, quale piattaforme nate negli Stati Uniti ecco per capirci guardiamo anche alle piattaforme cinesi guardiamo anche alle piattaforme russe no? Cioè guardiamo anche alle implicazioni che modelli di piattaforma molto diversi pensiamo in questo senso al modello delle piattaforme cinesi possono avere dentro una chiave che non è più soltanto nazionale ma è globale cioè in questo senso TikTok ad esempio che è uno dei social network che sta spopolando di più e che in breve tempo è riuscito a insomma a minare la popolarità di Facebook è un è un social network cinese ed opera anche in Italia quindi in questo senso i confini tra i vari paesi vengono anche messi in tensione dalle merce in realtà di quello che però non è uno schema piatto come dire o trasversale o privo anche di una componente come dire geopolitica in questo senso ma vede appunto le merce di quelle che sono in questo momento in particolare tre superpotenze cioè quella del capitalismo delle piattaforme americane cinesi e russe con l'Europa molto molto indietro da questo punto di vista e che in realtà ci raccontano che oggi chi riesce a estrarre processare di impiegare i dati non solo riesce a dominare l'economia ma riesce a dominare anche l'elemento geopolitico la chiave insomma politica internazionale e ehm in realtà insomma se guardiamo se la guardiamo da questo punto di vista ci possiamo dire che un altro confine viene a spumarsi che è il confine fra governo governance e governamentalità si potrebbe dire no intendendo appunto per governo la pratica tradizionale di governo la governance la sua visione negli ultimi trent'anni in realtà orizzontale ma che in fin dei conti abbiamo visto assolutamente simile a quella della piattaforma e che nascondeva anche degli elementi gerarchici e l'elemento della governamentalità focoltiana ecco le piattaforme interpretano tutte e tre queste eh versanti no interpretano tutte e tre questi eh questi elementi e riescono in questo senso anche ad incidere rispetto a quella che è la dimensione del governo più tradizionale ehm su questo eh c'è un libro molto bello di Benjamin Bratton che si chiama The Stack che appunto mette in evidenza come in realtà una delle origini delle piattaforme sia stato anche l'elemento geopolitico cioè la eh eh ossia il tentativo di liberarsi insomma di quelle che erano le le istituzioni internazionali del passato per sostituirle con un profondo intreccio una profondo legame interdipendente di quelle che sono state ad esempio le istituzioni internazionali neoliberiste che in realtà non si basano su più su un centro di comando ma su una complessa relazione interdipendenza tra i vari attori che però allo stesso tempo rende anche più efficace più pervasivo più dischioso quelli che sono eh i termini di governo quindi quello che a me dice emerge dentro del capitalismo di piattaforma è che quando abbiamo a che fare con aziende come Amazon Facebook con questi grandi giganti non abbiamo più a che fare con delle aziende come quelle del passato ma abbiamo a che fare con delle eh con delle vere e proprie infrastrutture barra istituzioni che non solo agiscono sulla vita quotidiana ma che sono anche in grado come dire di modificare e di fare pressione nei confronti alle scelte di governo condizionando dire non solo il colore del governo ma condizionando anche il contenuto delle prassi di governo su questo c'è un dibattito molto forte negli Stati Uniti penso che ricordiamo tutti anche il fantastico come dire la fantastica discussione fra l'Aucasio Cortez e Zuckerberg e in Europa scontiamo il fatto che ehm invece che di essere un poco più arretrati ecco rispetto a questi tre poli a livelli internazionali perché appunto non non siamo stati piuttosto terreno di conquista delle piattaforme che insomma eh che che laboratorio dentro il quale queste sono emerse perché appunto in realtà quello che ci su cui ci si ritrova spesso a discutere piuttosto il contenimento di questa espansione ovvio che in questo senso eh la la soluzione non è quella eh di eh come dire eh andare a questo tipo di commissione ma appunto eh secondo me sono dei temi molto seri che stanno venendo fuori anche dietro cose che ci possono solo sembrare eh non so come dire quasi goliardiche come ad esempio la corsa la conquista dello spazio eh di Amazon e di Elon Musk no? Eh che magari ci può eh ci può anche pensare insomma all'elemento assurdo e ci sembrano come dire dei ricchi viziati eh che si divertono nel loro giochino. In realtà punto numero uno è evidente che c'è una vera e propria anche sfida in confronti dello Stato no? Cioè di quello che è eh almeno di così come l'abbiamo conosciuto e quindi l'idea che eh non se oggi molti Stati nazionali non riescono non riescono neanche più come dire ad investire rispetto alla corsa dello spazio eh e e e Jeff Bezos ci promette di colonizzare Marte quindi insomma è evidente in questo senso la sfida ma appunto l'altro elemento è che eh ciò sta pienamente nelle logiche del capitalismo perché sappiamo che il capitalismo come dire gioca costantemente ad allargare i propri compini, ad allargare i propri margini no? Questo anche perché come dire dietro a queste piattaforme c'è anche sempre il potere dei grandi gruppi finanziari che sappiamo bene si muovono anche dietro alla promessa di nuovi spazi di conquista e quindi in questo senso promettere di conquistare Marte ecco insomma non è male eh da questo punto di vista per cui eh sicuramente da prendere in considerazione anche e da guardare come dire anche al modo in cui queste piattaforme si comportano fuori dallo spazio economico strettamente inteso e credo che quella della corsa dello spazio del di di vari Bezos e Elon Musk bene mettono in mosso come c'è da ripensare anche un po' i confini voglio dire del i nostri confini persino analitici ecco il modo in cui guardiamo a a a a a questi a questi oggetti perché se li guardiamo come aziende del passato non ci rendiamo conto invece di quello che è la profondità del loro disegno geomonico eh ecco grazie Marco è una situazione dir poco inquietante quella che hai descritto adesso e vabbè giusto per tornare un po con un po di ottimismo ti chiederei qualche considerazione finale su sui rider ecco lo abbiamo già detto il tuo è stato un rapporto molto diretto con le rivendicazioni portate avanti dai lavoratori in particolare mi riferisco alla situazione a Bologna ecco loro sono riusciti a smontare un discorso egemonico sulla cosiddetta sharing economy e a imporre quella che può essere definita come un'agenda politica nuova vorrei quindi chiederti se esistano altri casi positivi di risposta all'economia delle piattaforme e cosa possiamo imparare da loro visto che questi nuovi attori dell'economia impattano sempre di più sulla vita di ciascuno di noi anche e soprattutto sul piano lavorativo rendendo per esempio delocalizzabili delle professioni che un tempo non lo erano no ecco in realtà secondo me la storia delle piattaforme non è solo una storia del modo in cui il capitalismo trova modi sempre più pervasivi ed efficaci per riuscire in un qualche modo a spuntare il lavoro delle persone a condizionare le nostre vite ma anche una storia di come anche nella notte più buia diciamo ci si possa riuscire ad organizzare e che a volte basta poi una scintilla per aprire anche a nuovi scenari a nuovi orizzonti a nuovi a nuove possibilità che magari fino a poco tempo fa neanche riuscivamo a immaginare e a pensare e ecco in realtà diciamo il mondo dei lavoratori di piattaforma è in realtà un mondo molto più vasto di quello che sono i rider e purtroppo mi avrebbe da dire molto più vasto anche di quelli che sono in generale tutti i lavoratori che sono riusciti ad organizzarsi perché come dire di fianco ai rider possiamo sicuramente citare quelli che sono i drivers di uber oppure possiamo di recente facevo prima un riferimento a berlino è molto forte anche il movimento e le lotte insomma dei lavoratori di gorillas che sono un'altra piattaforma che adesso ha debuttato in città mi pare milano e roma sono sicuro ma credo che via via sta apparendo anche nelle altre città italiane che ad esempio una piattaforma che ha nel loro concept l'idea di riuscirti a consegnare di riuscire a consegnare a casa nel momento in cui entro uno spazio di sette minuti quindi l'idea è che tu magari stai cuocendo una pasta ti dimentichi il sale o il pomodoro o la pasta stessa e e come dire con un semplice clic sulla piattaforma di gorillas entro sette minuti quindi prima che l'acqua eh prima che l'acqua bolle eh hai hai insomma quello che ha ordinato la spesa che ha ordinato a casa no che ovviamente sembra qualcosa di fantastico raccontato in questa maniera ma essendo che appunto non sono poi dei robot a fare queste consegne ma sono delle persone noi sappiamo che tutte le volte che ci sono questi tempi ridotti dietro c'è eh come dire carne umana che in qualche modo viene consumata no cioè aziende come amazon ad esempio non hanno il problema del dei rider della di qualificazione del rapporto di lavoro ma il problema che in realtà come osservava Sergio Bologna la viva merce che vende amazon nel tempo nel fatto di riuscire a consegnare cose eh qualsiasi oggetto nel giro di ventiquattro quarantotto ore però in questo senso è che anche noi consumatori siamo complici perché tutte le volte che andiamo in queste piattaforme vediamo questi tempi di consegna così ridotti e eh come dire è tutto ciò viene attivato con il nostro click in realtà non è che finisce lì eh ci sono delle macchine che rendono tutto ciò possibile ci sono delle persone che in un qualche modo si rompono perché ad esempio la media dei lavoratori di amazon è quella di quattro anni perché poi dopo un po' proprio fisicamente non riesce a sostenere i ritmi di quel tipo là quindi esiste anche come dire una contrazione una un contrasto un'opposizione nei confronti persino di quelle che sono le capacità biologiche degli individui quindi eh questo per dire insomma tutto questo ragionamento per dire che appunto eh in realtà vediamo come anche all'interno ad esempio di un gigante come amazon che in aziende abbiamo visto negli Stati Uniti come continua a riuscire a tenere fuori anche eh i tentativi di sindacalizzazione però ad esempio in Italia e in Europa abbiamo visto come sono stati possibili una serie di sciopoli di filiera anche innovativi perché poi l'elemento se volete anche paradossale da questo punto di vista è che è proprio una condizione di vulnerabilità è proprio una condizione come dire di chiamiamola eccezionalità nella quale questi lavoratori si trovano diventa poi il fattore sul quale si costruiscono anche delle innovazioni dal punto di vista delle pratiche sindacali di solidarietà e di lotta che secondo me rendono come dire tutto quello che è l'ambito dei lavoratori di piattaforma eh dentro questi dentro questi dentro tutto l'ambito dei lavoratori di piattaforma estremamente interessante anche dal punto di vista appunto della capacità di riuscire a ad organizzarsi ad innovare pratiche eh sindacali che appunto negli ultimi trenta quarant'anni insomma abbiamo visto in un qualche modo anche declinare ecco eh per cui eh ecco diciamo che da questo punto di vista secondo me c'è da essere ehm ottimisti nel senso su quello che è ehm la capacità appunto dal basso di riuscire a contrastare eh questi questi giganti detto ciò ciò non avviene come dire eh magicamente ecco insomma eh un'altra delle cose interessanti su quello che è stato eh la vicenda dei rider a mio avviso è stato un po' anche il rapporto nei confronti dello Stato che secondo me vuol dire un oggetto che spesso viene condizionato anche un po' dal nostro immaginario mettiamola così no? Cioè se c'è un punto eh che a mio avviso accomuna gli statocentrici e gli statofobici è quello di vedere lo Stato come appunto una sorta di dentro una chiave paternalista come se con un colpo di bacchetta fosse in grado di determinare la realtà eh e questo insomma è un po' una tendenza che a mio avviso abbiamo assunto diciamocela così a sinistra negli ultimi trenta quarant'anni per la quale ad un certo punto deve venire sempre qualcuno da fuori a salvarci no? Deve arrivare una legge a salvare non so ad esempio la caduta dei salari deve arrivare qualcosa eh come dire da fuori a eh in qualche modo a consentirci di recuperare il terreno non che non cioè non che non sarebbe qualcosa di auspicabile non che non ci sia un ruolo come dire che le istituzioni possono giocare eh per 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 appunto riequilibrare i rapporti di forza e e consentirci di recuperare strumenti però eh come dire io continuo a pensare che l'organizzazione dei lavoratori o in generale la capacità dei cittadini delle comunità di organizzarsi sia un elemento insostituibile sia qualcosa come dire che non è bypassabile da un intervento esterno surrogato di un qualcuno che si trova fuori di noi cioè in questo senso lo Stato siamo noi e e e siamo anche noi e e questo secondo me è un elemento e siamo noi a doverci organizzare anche per riuscire a determinare a costruire contropotere ecco a riuscire a alimentare la democrazia anche con un conflitto dal basso che in qualche modo è qualcosa che la vicenda dei rider ci racconta essere assolutamente necessario non solo per i rider stessi ma appunto mutuando lo slogan eh di riders union non per non solo per noi ma per tutti cioè perché quella lotta è stata in grado poi di aprire degli spazi di regolamentazione e democratizzazione che andavano oltre come dire compini del food delivery no? E in questo senso abbiamo visto come eh l'articolazione anche complessiva dello Stato quindi non solo l'elemento governativo ma anche eh quella che è stata l'azione dei carabinieri di Milano con l'inchiesta che hanno condotto durante la pandemia quella che è stata insomma l'azione dei giudici a seguito anche delle numerose cause che hanno portato avanti i rider ecco lì eh come dire c'è stata una generale trasformazione anche del modo di guardare a quel tipo di lavoro quindi non visto che a un certo punto non è stato più visto come paradigma di una nuova economia flessibile colorata ma come vero e proprio paradigma dello sfruttamento no? Cioè come dire lo stesso cubo che i rider indossano e che dove essere impiegato per eh come dire far pubblicità alla piattaforma anche quando i rider non stavano lavorando mettiamolo sì erano lì che attendevano che arrivasse l'ordine in realtà ad un certo punto si è rovesciata contro le piattaforme stesse ed è diventato il simbolo di una lotta di riscatto ecco quindi questo per dire che eh dentro questo rapporto che c'è stato e che oggi arriva appunto alla direttiva europea non è mai stato un rapporto in questo senso in cui eh si è arrivati direttamente come dire a risolvere la questione ma l'elemento positivo è stato che il conflitto aperto quegli spazi se volete di immaginazione per la quale la politica ha potuto immaginare una forma di regolamentazione che non solo si distaccasse dalla narrativa della piattaforma ma che per certi versi si distaccasse dal mantra insomma dell'asse ferne o liberista dall'altro lato eh dall'altro lato si potrebbe dire come che d'altro lato si potrebbe dire che insomma i tentativi e le regolamentazioni fatte dalle istituzioni locali come c'è stato anche ad esempio la carta di Bologna firmata dal comune di Bologna eh eh quelli 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 nazionali e quelli internazionali hanno poi aperto spazio per fare in modo che la realtà dei rider da come dire gruppetto di lavoratori informali auto organizzati e oggi stia diventando anche una eh delle delle spinte di rinnovazione delle strutture sindacali tradizionali cioè in questo senso secondo me il fatto che ci sia stata anche una forte unità fra i lavoratori quindi una forte unità della classe ha anche come dire unito quelle che sono le sindacali questo sta determinando anche la permeabilità in eh contesti categorie che storicamente non sono state mai molto aperte come dire a questo tipo di esperienza che invece oggi si ritrovano comunque ad avere a che fare con ciò che la lotta dei radio era sedimentato non solo dal punto di vista come dire delle idee delle pratiche ma anche dal punto di vista di una vera e propria classe dirigente sindacale che sta emergendo e che sta emergendo come dire dalle dalle strade che in qualche modo eh spinge ecco non solo per ehm non solo appunto per eh per trasformare quello che era quell'ambito lì ma appunto anche per per agire in una chiave più generale all'interno della società e inventare anche nuovi modi e nuove alleanze come quelli che sono state sperimentate ad esempio nel caso di del dello sciopero della filiera amazon e che rappresentano come dire un a mio viso un elemento sicuramente innovativo e positivo questo per dire che il sindacato appunto non nasce nel momento in cui uno si fa la tessera ma il sindacato nasce nel momento in cui due persone si trovano e e condividono i loro problemi e si rendono conto che i problemi sul lavoro non sono il frutto come dire della loro eh spiga individuale del di scelte sbagliate dal punto di vista del percorso formativo di una scarsa attitudine e capacità che sono un po come dire tutti quei quelle scorie delle retoriche neoliberiste ma i problemi sul lavoro sono il frutto come dire di un sistema ingiusto che non funziona e che ha come obiettivo non quello di un'economia al servizio delle persone ma di rendere le persone come dire un vero e proprio strumento dell'economia e quindi come dire in questo dopo che per quarant'anni ci hanno raccontato che i sindacati erano qualcosa di vecchio di obsoleto eh che andava messo da parte c'era che insomma usava le metafore dei gettoni dentro l'acqua e quant'altro in realtà la lotta dei rider quello che ci insegna è che invece il sindacato è uno strumento insostituibile non solo di democrazia nei luoghi di lavoro ma di democrazia nel paese chiarissimo ti ti ringrazio molto per per questa chiusura che insomma ti hai lasciato sperare un po' il quello che insomma continuiamo ma l'idea chiara è quello che c'è da fare e quella che è la situazione prima di lasciarci volevo chiederti una cosa che insomma cerchiamo di chiedere più o meno a tutte le persone che intervistiamo e diciamo in particolare citavi durante la chiacchierata abbiamo fatto oggi alcuni alcuni autori e volevo chiederti se qualcuno volesse approfondire questi temi oltre al tuo libro ovviamente se diciamo di consigliare un altro altri due test insomma che consideri particolarmente interessanti e attuali sicuramente due test italiani che sono che sono sebbene da due angli differenti come dire ormai insomma dei classici di questo su questi temi sono uno schiavi del click di antonio casilli sottotitolo perché lavoriamo tutti per il nuovo capitalismo uscito per feltrinelli e l'altro è il tuo boss un algoritmo di valerio de stefano antonio luisi uscito invece per la terza poi consiglio anche mi permettono di andare un po' oltre il seminato perché comunque c'è tanta letteratura interessante che si sta producendo anche fuori dell'italia spesso non tradotta in italiano ma che insomma consiglio di guardare uno su tutto the fight for the fight the fight against platform capitalism di jamie woodcock e work without workers di jones non ricordo il nome perdonate che è recentemente uscito per il secondo per verso books si è anche il primo credo si mi pare questi sono altri due testi che secondo me sono molto interessanti se posso aggiungere addirittura un terzo test un terzo testo internazionale riding for delivero di callum cant che insieme a the fight the fight against platform capitalism sono due testi anche qui di pratica come dire di partecipazione osservante cioè sono due autori che hanno contribuito insomma al movimento dei rider a livello internazionale che hanno avuto esperienze anche di lavoro all'interno delle piattaforme che quindi raccontano questo vicenda insomma da quello che è l'unico punto critico possibile sia dal punto di vista del lavoro e di chi insomma prova anche a mettere in crisi i sistemi di potere inventati dalle piattaforme grazie mille insomma abbiamo molto materiale su cui riflettere per approfondire e ringrazio ancora marco marrone per il tempo che ci ha dedicato oggi e alla prossima grazie grazie a te e grazie a tutti gli ascoltatori grazie a tutti grazie a tutti